In questa diretta elettorale da Palazzo Lascaris abbiamo con noi Elisabetta Ciatta Burduia del Centro Culturale Romeno di Tradizione Romena in Piemonte. Innanzitutto una domanda, quanti sono censiti da voi i rumeni presenti sul territorio piemontese? Sul territorio piemontese noi ne abbiamo su 100.000 rumeni già regolari. Si sta rinnovando l'amministrazione regionale, una domanda che viene spontanea, cosa si aspetta la comunità romena regolare dal rinnovo dell'amministrazione? La maggior parte della comunità romena, quelle che vogliamo vivere per bene, ci aspettiamo che la giunta regionale venga un attimo al contatto fisico con noi, proprio per conoscerci, conoscerci i nostri bisogni, la nostra cultura e di vedere che troverà delle persone splendide con un grandissimo potenziale per il lavoro e per tutto l'altro. Sarebbe una bellissima ricchezza e vera ricchezza per gli italiani. Una domanda che sorge spontanea. Si è rinnovato anche il Parlamento europeo, tra l'altro ha eletto anche i deputati europei della Romania nella tornata elettorale di ieri. L'immigrazione è un argomento molto caldo sentito soprattutto dall'Europa occidentale. Con gli occhi di un romeno, qual è il vostro approccio quando si parla di immigrazione? L'immigrazione posso dire che per noi, come per tutti quanti, c'è una parola sia bella sia un po' meno bella. Bella perché possiamo conoscere altri mondi, bella perché tu quando riesci a integrarti in un paese dove sei già immigrato e conosci anche le loro abitudini, tutto è bello se tu li prendi tutto quello che è bello da loro parte. E' un po' meno bella perché comunque sei costretto a lasciare il tuo paese. Lì ne abbiamo tutte le radici. Impossibile, anche se ci troviamo benissimo qua, vorremmo che anche i nostri che sono rimasti di là vivessero benissimo di là. Ci aspettiamo che il Parlamento europeo, i nostri che sono scelti, i nostri deputati, che facciano qualcosa, che vengono anche il nostro aiuto qua sul territorio, anche se siamo immigrati, che vanno in diaspora dappertutto, sentire i nostri bisogni, le nostre ricchezze e tutto ciò che noi possiamo fare per loro e anche loro per noi, perché dovranno fare ancora tante tantissime cose, non venire a chiedere solo i voti quando sono nelle elezioni. Senta, lei che oltretutto si occupa anche di rapporti con l'Unione europea, per quanto riguarda anche un deputato della Romania. Ecco, oggi come oggi, qual è secondo lei l'errore che una comunità, cioè un tessuto come quell'italiano, può fare nei confronti di uno straniero, in questo caso di un rumeno, in favore dell'integrazione? Se errore possiamo parlare. Prima di tutto dovrebbero lavorare anzitutto al piano amministrativo tra i due stati, perché questo secondo noi manca, si implicano molto meno e per quello noi, anche se andiamo, la mancanza delle informazioni è prima causa che per le nostre non riuscite, per dire così. Un'ultima domanda, ci lasciamo con questa valutazione. Per quanto concerne la Romania, noi purtroppo, fatti di cronaca, ci danno un'immagine diversa da quella che è la Romania. E' pur sempre vero che nella massa di immigrazione, alta la percentuale di persone che comunque delinquerebbero anche in Romania stessa, nel loro stesso paese. Ma questa non è la vera Romania. Assolutamente sì. La vera Romania è quella di Bruncus, è quella di Eminescu, è quella di Gicca Hagi, è quella di tutti, di Gheorghe Zanfir, è quella di tutti, tutti i nostri valori, tutti i nostri valori che li abbiamo su piano culturale e che di solito, e mi spiace, nella cultura italiana non vengono riconosciuti. Noi ne abbiamo, come anche voi, anche tutti i valori che comunque di qua vengono fuori, spuntano solo i malviventi e quelli che anche in Romania farebbero lo stesso. Bene, ringraziamo Elisabetta Ciotta-Burduia della Comunità Romena in Italia, del Centro Culturale di Tradizione Romeno, dare di nuovo linea alla regia per il proseguimento della nostra diretta elettorale.